Va bene, tu prendi quella e noi prendiamo il tuo scott, eh? Perché quella ragazza non può salire su un motorio? Si era comprata un motorio qualche sera e entrava più tardi. Non preoccupati, cambiano, ora ti occuperemo io, ok? Fai attenzione e stai via da laga. Ok, andiamo. Ospik Olbke mi ha fatto quasi perdere la gamba. Il suo scott? Pensavo avessimo stabilito nessun motopattivo fino a Natale. Ah, intendo lo scott che si spinge col piede? Film. Sapevi che era il mio scott, eh? Oh, il tuo bello pattinaggio. Faccio io. Clash, clash. Oh, 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 oh. È caduto dell'acqua. Motovio! Ok, ora andiamo a patinare, ah beh, quello, patinare giù, giù, guido il motorio, è caduto lo scote e si è ruota la clavicola, la clavicola, sta tranquillo che domani lo scote è pronto, ciao, 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 ciao. Grazie.